buonasera bentrovati con topic torno a parlare di un argomento che va di moda in questo ultimo periodo perché ci sono le forze dell'ordine che fanno blitz un po dappertutto parliamo di lavoro nero di controlli all'interno degli esercizi commerciali delle piccole medie grandi aziende e che cosa si scopre sempre con con cadenza quotidiana che ci sono lavoratori in nero o meglio ci sono lavoratori non messi in regola o quando sono messi in regola sono messi in regola con contratti finti di part time poi con ore che vanno ovviamente molto avanti rispetto a quello che è concordato economicamente ecco ma la cosa la cosa grave fondamentale che voglio sottolineare è che ci sono tantissimi che si spacciano per datori di lavoro e che danno occupazione gratis cioè nel senso che fanno lavorare con la promessa di pagare cioè siamo arrivati anche a questo la disperazione umana la ricerca di un posto di lavoro porta anche al sacrificio quantomeno dice qualcosa metterò in tasca per comprare il pane per mantenermi ecco guardate questa è una situazione tanto imbarazzante che io la voglio evidenziare perché mi hanno colpito un po i dati che ho letto in giro dappertutto dati che sono lo specchio non della sicilia non di napoli che della calabria che va di moda per tanti mettere nel mirino no sono dati nazionali pensate che al nord il lavoro nero è più presente che al sud ma cioè potevate immaginarvi che nell'opulento nord dove tutte le regole sono osservate noi abbiamo secondo i dati del cga di mestre addirittura un nord che è al primo posto per il lavoro nero rispetto al centro e al sud però c'è un dato importante che c'è da sottolineare il lavoro nero al nord non è tutto il lavoro nero e quindi spalmandolo su quello regolare scende di percentuale al sud invece il lavoro nero è molto elevato in percentuale e quindi è molto più presente in un contesto meridionale quindi i numeri sono impietosi perché dicono che la sicilia la calabria e la campagna hanno il lavoro nero più importante in percentuale di occupati ma allora tutto questo discorso perché lo sto facendo perché vedete io leggo ogni giorno guardia di finanza controlla sanzioni e su otto dipendenti cinque lavoratori in nero questo è successo per esempio ieri a san gregorio una cittadina in provincia di catania ma questo accade in altre realtà siciliane i luoghi più da lavoro nero sono l'agricoltura l'edilizia il commercio al dettaglio gli alloggi e la ristorazione ecco questi sono i quadri che imprenditori appendono alle proprie pareti perché poi cosa succede che arrivano i controlli e gli imprenditori piangono perché ovviamente hanno immaginate su otto dipendenti nei cinque in nero c'è qualcosa che sicuramente non funziona però ecco la croce non deve essere portata sul collo del mondo imprenditoriale gli imprenditori devono essere messi nelle condizioni di poterli stipendiare i lavoratori abbattendo le tasse dando le agevolazioni che diventano solo delle promesse che poi non vengono quasi mai mantenute ora in questo contesto generale possiamo dire che come facciamo a combattere il lavoro nero dando la possibilità agli imprenditori di avere delle certezze con i lavori le infrastrutture i servizi noi siamo a fare sempre la tragica conta no perché poi cosa succede oltre al danno c'è anche la cosiddetta beffa perché non solo c'è il lavoro nero ci sono persone sottopagate poi ci sono anche quelle che muoiono perché non ci sono controlli ideali perché tutto così superficiale per risparmiare cioè per abbattere i costi non ci sono le esperienze va bene non ti preoccupare l'importante che fai questo questo accade in italia però noi nella repubblica fondata sull'articolo 1 il lavoro il lavoro il lavoro il lavoro il lavoro e poi il lavoro che non c'è la cosa che mi piace sottolineare parlo della sicilia ma il patto di coesione penso che sia un discorso nazionale la risposta a chi non ha occupazione a quelle famiglie che vengono ancora oggi mantenute dai pensionati in famiglia magari c'è un pensionato che mantiene tutta la famiglia perché il lavoro non si trova da nessuna parte eppure ci sono tante richieste ma le richieste devono essere accompagnate da emolumenti all'altezza non è che tu puoi fare la richiesta di un indipendente per poi pagarlo a 0 euro a 2 euro mortificandolo schiavizzandolo questo che accade in questi signori che scappano dai loro territori per venire a trovare fortuna in italia e poi vengono sfruttati sui campi senza nessuna garanzia quante volte abbiamo denunciato questo fatto eppure continua ad accadere dicevo e che i segni che possono essere importanti e che dovrebbero abbattere l'ideologia di parecchia gente perché vedete protestare sempre o pensare che l'avversario politico sia deficiente tu sei intelligente non non paga paga invece la risposta che la gente vuole avere per esempio il governo ora in sicilia ha firmato un patto che ritengo sia il più importante degli ultimi decenni presumo 7 miliardi di euro dovrebbero arrivare in sicilia per risolvere una miriade di problemi perché la sicilia di problemi ne ha non lo so una moltitudine sono veramente non si possono elencare però vi voglio dire una cosa allora 7 miliardi che verranno messi a disposizione di il ponte sullo stretto che diventa sempre quel sogno di quella parte di siciliani di italiani che sono consapevoli del fatto che le infrastrutture anche in sicilia si devono fare a dispetto di chi pensa invece di fare il bastian contrario per eccellenza poi ci sono il contrasto al dissesto idrogeologico la gestione dei rifiuti il risparmio energetico la grande emergenza legata all'acqua immaginate in sicilia ma anche nei dissalatori siamo un'isola abbiamo il mare abbiamo l'acqua che potremmo fare qualsiasi cosa eppure centelliniamo quella che troviamo poi che si perde nelle condutture obsolete arcaiche appartenenti probabilmente all'impero romano i termo valorizzatori dovrebbero nascerne due aiuti alle imprese miglioramento delle aree industriali trasporti e mobilità in sicilia manca dall'acqua fino al sale ambiente e risorse naturali praticamente i fondi questi fondi sono destinati a circa 580 progetti ecco questo vogliamo dire questo serve per dare una risposta ai siciliani e per mettere in piedi il lavoro il problema sarà poi che questi fondi li dovranno gestire persone competenti è lì che casca l'asino è lì che casca l'asino perché i fondi che sono arrivati in sicilia in passato alcuni sono tornati indietro ma non sono stati manco spesi oppure i fondi che dovranno arrivare siamo convinti sicuri e certi che questa gente sia nelle condizioni di spendere di questi fondi questa è una domanda che mi pongo da una miriade di anni mi auguro che finalmente le competenze forse con qualche giovane in più indottrinato meglio capace di sviluppare di cavalcare imprese importanti per far sì che questo sviluppo dell'isola veramente prenda corpo e questo è un discorso nazionale l'italia non può restare indietro rispetto agli altri stati anche perché noi ci mandiamo di essere i più bravi quindi gli italiani i siciliani quindi cerchiamo di dare delle risposte effettive sfruttiamo questi soldi abbattiamo il lavoro nero abbattiamo la disoccupazione questo è quello che noi ci auguriamo noi torneremo su questo argomento magari sentendo anche qualche d'uno tipo sindacalisti o altri che ci possono dare altre possibili soluzioni a questo momento drammatico di povertà diffusa siamo arrivati alla fine di questo spazio come sempre vi ringrazio per l'attenzione le coordinate sono sempre le stesse ve le ricordo redazione chioccio la spazionotizia.it e poi il nostro numero telefonico il 379 224 24 20 grazie e arrivederci